Vi siete mai chiesti perché è così importante uno studio epidemiologico? No, stop. I biomarcatori di suscettibilità genetica sono dei marcatori forse suscettibili. I dati ambientali saranno incrociati con i dati dell'area medica mediante l'interpolazione. No, interpolazione. Non sono suscettibili. No. Epidemiologico. Interpol... 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 In... Hai visto? Ma vedi, pure a lui è difficile questa parola. Non ci riesci a fare. Non si può cagliare a tutti. No, stop. Basta. Va bene così. Non si può fare. Si chiama Spess e non ha nulla di difficile se non combattere una grande battaglia. La campagna prova a sfidare tutti in nome della difesa dell'ambiente e della salute dei cittadini. Spess è la più grande campagna salute mai condotta prima in campagna. Facciamola semplice. Si tratta della nostra terra. Si tratta della nostra terra.